Una terrazza panoramica per parlare di vini, di vini un aspetto internazionale, ma soprattutto per conoscere che cos'è ProWine edizione 2018, un'edizione importante. Importante perché dopo il grande successo dello scorso anno, con numeri che veramente hanno fatto sognare gli operatori del settore, noi oggi siamo a Roma per presentare la nuova edizione, quella di marzo 2018. Allora, dopo il grande successo del 2017, siamo in Roma, per la nuova edizione di ProWine edizione. Allora di questa terrasse, ovviamente. Possiamo anche ritenerci molto soddisfatti, adesso passiamo alla traduzione di quello che è stato appena detto e dichiarato. Ricordiamo, numeri importanti lo scorso anno che hanno richiamato tutti gli operatori del settore e che hanno spinto a promuovere ancora maggiormente l'edizione 2018. Certo, anche per il 2018 possiamo parlare di cifre record, non solo riguardo il numero degli espositori, ma anche i metri quadri che sono stati affittati. E chiaramente queste cifre record le aspettiamo anche per il numero di visitatori specializzati, i nostri operatori. Ecco, una conferenza stampa che viene fatta a Roma. Parliamo di una manifestazione a livello internazionale che però sceglie Roma per la presentazione della conferenza stampa. Allora, noi siamo pieni di orgoglio naturalmente per questa scelta, però vogliamo capire e motivarla. Allora, una conferenza che è stata in Roma, una presentazione di una presentazione di una presentazione di internazionale in questo mondo. E noi siamo molto orgogli e vogliamo anche capire, perché proprio Rom? Noi siamo chiaramente molto contenti di essere qui in questa meravigliosa città una città da sogno e siamo alla termine di un nostro viaggio che abbiamo fatto per promuovere la nostra fiera e quale sito migliore quindi di questa città Roma che è anche un luogo che fissa stabilisce i trend proprio nel settore del food and wine ecco tutto questo ripeto ci riempie d'orgoglio però ecco torniamo un attimo a pro one che è veramente una manifestazione di livello internazionale e che a differenza di tante manifestazioni dedicate ai vini e ai liquori è destinata meramente a un pubblico di operatori del settore di addetti ai lavori questo un pochino fa la differenza e contraddistingue proprio questa grande iniziativa rispetto a tante altre nel panorama italiano e internazionale. Parola, grazie. Parola, grazie. Parola, grazie. Parola, grazie a tutti i ragazzi di fare la pro one che è solo per i faccioglieti. e questo è un po' importante motivo di questo. Certo, lei ha detto giustamente, questo è proprio il nostro focus, ci concentriamo sugli operatori specializzati e non facciamo nessuna eccezione, siamo davvero molto rigidi in questo senso, vogliamo mantenere proprio questo carattere specifico del Provine, vogliamo ribadire che si tratta di una piattaforma pensata per il business, quindi dove vengono scritti, firmati gli ordini. Allora, noi a lieti di questa conversazione ringraziamo, però chiudetemi e consentitemi una nota gentile alla fine naturalmente di questa intervista un pochino istituzionale e quindi consentitemi di chiedere se piacciono e quanto gradisce naturalmente oltre al paesaggio contestualizzato di Italia in Roma i vini italiani. Also, ho anche una domanda riguardo alle italiani, il panorama è davvero bello, ma come scezzi le italiani? Scezzi? Scezzi, mi scezzi italiani sono molto bene, non c'è una domanda. Se si tratta di un'altra domanda, non si tratta di un'altra domanda. Un esempio è, se si tratta di un'altra domanda, non c'è una domanda che ha così diverse settori come l'Italia. Questo mostra che l'Italia è davvero molto alto in fronte, quando si tratta di qualità, quando si tratta di diversi vini. E sono molto felice, che l'Italia è davvero molto importante. che è un'altra domanda. Senza dubbio mi piacciono i vini italiani e chiaramente quando si è in giro per il mondo, ovunque c'è un qualche cosa di italiano. E questo si vede anche nell'elevato numero degli espositori italiani che sono presenti al Provine. L'Italia veramente è al primo posto in termini numerici, in termini di qualità e anche di varietà dei vini proposti. Noi speriamo davvero che questo trend continui come presenza degli italiani al Provine. E noi naturalmente ringraziamo. Thank you very much. Thank you. Naturalmente tra poco, insomma, comincerà la vera e propria intervista e la dichiarazione relativa alla conferenza stampa. Siamo pronti a seguire tutto. Vi aspettiamo. Ciao. 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 Ciao.